Musica Abbiamo chiesto di verbalizzare tutto quello che è stato richiarato in ufficio quindi che loro porteranno, presumono l'80% della sezione entro ottobre Il problema è che non lo vogliono verbalizzare La risposta a questo è che questo ente non è interessato non ha questi poteri per affrontare questi tipi di lavori Loro non possono affrontare questi tipi di lavori Scusate un attimo, bisogna affrontare un altro passo, questo è stato il primo passo dei residenti della Valle dell'Albegna bisogna affrontare la regione, a questo punto ci dichiarano Affrontiamola, domani c'è il presidente Rossi Diciamoli come stanno le cose Alle 8 all'Albinia Alle 9 c'è il presidente Rossi d'Albinia Diciamoli come stanno veramente le cose Vediamo se lui perlomeno si rende responsabile di questa situazione Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dà la mano Speriamo che almeno questa volta la regione ce l'abbia Sì, sì, va bene 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 Allora, ecco Sì, vabbiamo Sì Vabbia